grazie ciao ciao grazie 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 ecco qui qui come oggi che io aspetta felice definirei perfetto perchè sto usando il mio microfono preferito in assoluto proprio come audio e però un po' di qui si prima giusto per a tornare in un sound veramente un po' di qui guardiamo un microfono che adoro adoro veramente l'adoro spero davvero mi piace mi piace e spero che anche per voi possa avere un po' un video perfetto 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 e anche molto molto frasica camera per qua che qui è so che si sente un pochino anche il soffio, spero non si è il dispianso ma è parte del bello di questo microfono o lo si ama o lo si odia questo proprio io ho il l'epico microfono così avvicinato un pochino a me di camera come è stato? come? come? come è stato? come è andato ce n'è? come è andato o scrivete nei commenti cosa vi è piaciuto più di noi focalizziamoci sul positivo su cui abbiamo il controllo e ditemi appunto che cosa anche una sola cosa che mi è successa di bello che avete fatto di bello in questo mese diciamo diciamo grazie questo mese la cosa più bella che ho fatto è che chi mi segue su instagram lo sa e per chi non mi segue su instagram perché non mi segue su instagram mi trovi come chiara.sml quindi fatti tanto anche tante storie smr e tutti spoiler ah comunque chi mi segue su instagram lo sa già io e mio marito che da circa un mese ha cambiato lavoro e lavora quasi completamente da casa siamo riusciti ad andare quattro giorni in montagna lavorare far una vacanzina far un mercato in montagna siamo riusciti ad andare da venerdì da venerdì a martedì sabato e domenica ci siamo andati ancora tutti insieme in alto adige io adoro la montagna e per me è come per l'altezza del sole e il mare a me la montagna, la neve trasmette una serenità, una pace mi sento proprio di essere nel mio posto e nel mio ambiente e mi do una tranquillità, sanità, mi ricarica tanto per me, per me qual è il vostro posto? ho questa attività che mi ricarica tanto era da anni che dicevo che volevo andare a sciare, come 4 anni almeno o che volevo comunque andare in trentino all'inverno almeno pochi giorni e sono contenta di essere riuscita a farlo perchè a volte i mesi passano, i giorni passano e alla fine non siamo mai ok questo è il giorno in cui voglio fare quella cosa che mi ha dato da tanto e invece mi sono detto no, adesso lo vai e questo è il momento perchè quanto spesso troviamo sempre cura siamo andati in un appartamento in valbustaria molto semplice, con la cucina ci siamo cucinati via a casa siamo andati sullo slittino ne è levicato fuori da tanto, è stato bellissimo molto semplice non abbiamo fatto chissà che cosa però abbiamo fatto correre a la nostra cagnolina sulla neve su tanta neve per la prima volta insomma sono stata proprio bene e siamo tornati a parte della scuola con la 24 con la 24 con la 24 con la 64 con la 45 con la earnedola un po' di più prendo 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 quindi questa è stata la cosa che ho fatto più bella a gennaio però devo dire che è stato un mese comunque tutto sommato abbastanza bello pieno di alti e di bassi un po' particolare ho conosciuto tante persone nuove cosa che mi rende veramente felice ho lavorato tanto tanto sulla mia crescita personale quindi tutto sommato sono molto brutta io ci conto e mi diciate cosa vi avete fatto a gennaio cosa vi è capitato a gennaio perchè secondo me tanto essere grati per ciò che siamo riusciti a fare per ciò che siamo per ciò che è successo è sempre una cosa a fare non riuscirete mai non riusciremo mai ad apprezzare veramente cosa ci succede o cosa abbiamo già se appunto non siamo grati proprio della nostra sentenza generale quindi mi consiglio almeno una volta di fare un pensiero di gratitudine ad esempio banalmente oggi sono grata della colazione buonissima che ho fatto o sono grato di star riusciendo a fare questo video o sono grato che tra poco vengano i miei amici a casa mia e passiamo un po' di tempo insieme oggi sono grata per tante cose ma a volte capita un pochino più di sforzarmi è normale però vedrete come cambia e mi ha cambiato veramente tanto le cose ad essere grata per tutte le piccole cose che ho ottenuto e che ho perché mi aiuta anche poi a a riuscire a ottenere qualcosa in più senza paura perché comunque so già che come andrà io sono grata per quello che ho e tutto ciò che mi accadrà e oltre è ancora più abbondanza di gratitudine non so se questo concetto posso farvi chiaro per questo canale ho tante cose in selva per questo canale 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 e quindi per questo canale e quindi per questo canale 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 grazie a tutti 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 editarli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti penso penso perché grazie a tutti non ho grazie a tutti 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 ditemi stasera sono sono grazie a tutti per la grazie a tutti faccio grazie a tutti uno grazie a tutti segui grazie a tutti 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 davvero penso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti con grazie a tutti